E ciao a tutti ragazzi, sono Fatis e nuove rettonanti ragazzi Con un nuovo video pull su Tragable Legend ragazzi Oggi ragazzi, finalmente l'ho portato a peso E' arrivato ragazzi, il nuovo banner mi sembra Perfetto LF ragazzi, c'è qui vuole un nuovo Xtreme ragazzi Io non vedo l'ora di ragazzi a pullare con voi ragazzi Prima di tutto ragazzi che abbiamo lavato Mi raccomando lasciate dei futtissimi like Se avete altri nuovi video ragazzi sul mio canale Mi raccomando ragazzi, vi lascio ovviamente Tutte le descrizioni, mi ha portato su Instagram L'app PlayStation per seguirmi e magari pre-market Delle quattro intese Vabbè ragazzi, io mi conosco una manacchiata Sulla Z-Power List Allora, 0.5% Cell Vabbè, è un scopo buono Abbiamo anche il Z-MASUGOROTO GOKU4 Abbiamo un paio di elefra e altri personaggi Che schifo non fa Poi ragazzi, vediamo un buono chiacchino Nel nuovo World 1 Stream Dovebbe trovarsi il fordo qui Aspettate, eccolo qui C'è l'h che ragazzi Gire 8 schifo non fa LH è perfetto Vabbè ragazzi, diamo che torniamo a questa playlist La recetto D'accordo Vediamo Poi c'è che c'è Poi vabbè Non c'è che c'è 2.000 E' il guitto E poi La free Ovviamente E ci sta Vabbè ragazzi Addo le cacce Partiamo subito A farci queste belle pulette Come vedete Sono la semi La ragazzi Che aver fan nante Per questo video Pura ragazzi Oh boy Però fami coltetti Vediamo se oggi Riusciremo a trovarlo A me o Butta Ok, cominciamo a corso Ho 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 un altro video. Va bene, non ha dato bene il primo step, andiamo con il secondo con la seconda di salvo. Allora siamo con cinque corsetti, quindi cinque personaggi, vediamo. Era quello, ragazzi. Sì, quello sbagliato, andiamo con il prossimo, forse ragazzi siamo più fortunati se lo troviamo. Sì. 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 Proviamo. Allora... Okay, chiedo scusa per il problema, come è successo, quanto bene abbiamo avuto un problemino con la connessione ovviamente raga mi succede quando devo registrare e vi chiedo scusa proviamo di nuovo ma questa volta ragazzi non dovrà succedere di nuovo ve lo posso garantire il tratto ragazzi possiamo ripetere a fare dei multi senza problemi d'accordo ragazzi proviamo di nuovo ora no ora no o o o o o o Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Ciao.